Presento l'ordine del giorno 26.127 che riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa della regione per quanto riguarda le competenze digitali. Il mondo dell'information and communication technology e dei servizi digitali è uno dei più promettenti in assoluto per quanto riguarda le opportunità occupazionali. Basta citare per esempio le stime dell'Agenzia di ricerca sull'istruzione e la formazione tecnica e professionale dell'Unione Europea che per quanto riguarda l'Italia per i prossimi 10 anni prevedono la creazione di nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili. Noi però come regione abbiamo un'offerta formativa piuttosto carente sulle competenze digitali in quanto basta leggere i documenti ufficiali all'interno del nostro sistema di formazione professionale gli indirizzi maggiormente frequentati sono quelli del benessere della cura rispettivamente 13.000 e 10.000 allievi seguiti dall'indirizzo elettrico e meccanico. Quindi l'obiettivo di questo ordine del giorno è quello di ampliare l'offerta formativa di regione Lombardia per offrire nuove opportunità ai ragazzi di acquisire quelle competenze che sono necessarie per andare incontro alle nuove opportunità occupazionali che offrirà il mercato del lavoro. Per cui chiediamo uno stanziamento di risorse per l'anno scolastico 17-18 per incrementare l'offerta formativa dei percorsi mirati all'acquisizione delle competenze digitali. Il secondo e ultimo ordine del giorno che presento è il 26-125 che riguarda il rifinanziamento del bando per l'incentivazione della diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Questo è un bando che era stato fatto nei mesi precedenti in linea con quanto previsto dal PEAR e quindi l'individuazione delle iniziative prioritarie quali per esempio l'utilizzo dei sistemi di accumulo per l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo bando è stato aperto e chiuso in pochissimo tempo, aveva una dote di 2 milioni di euro perché è stato molto apprezzato dai cittadini e di fatto le risorse si sono rivelate insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini stessi. L'obiettivo di quel bando era quello di aumentare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per diminuire ovviamente le emissioni di gas a serra derivanti dalla produzione di energia da combustibili fossili. Quindi riteniamo assolutamente strategico e opportuno prevedere un rifinanziamento di questo bando. Grazie.